signore e signori buonasera martedì 13 novembre alle ore 14 30 sui nostri canali andrà in onda colori la prima puntata del Vecarbo Show una chiacchierata amichevole tra due componenti del nostro team un ospite d'eccezione e tutti voi che ci seguirete da casa lo show sarà in diretta internazionale e la vostra partecipazione sarà essenziale alla riuscita del programma di fatti le vostre domande saranno lette in live grazie per la vostra attenzione e buona serata